Il cittadino che è coinvolto si sente parte di un progetto, il cittadino non coinvolto non è parte di un progetto e allora vive la città come uno straniero, come uno di passaggio e invece noi cerchiamo anche con i ragazzi dell'università ma anche con quelli che vengono a trovarci, che stanno qui, magari abbiamo delle città gemellate, di fare in modo che si sentano parte della nostra comunità. L'impatto è stato molto positivo, è solo l'inizio secondo me di una più grande pedonalizzazione, questo ha fatto sì che le persone possano incontrarsi, socializzare molto di più, girare nei locali in tutta tranquillità, non avendo lo stress delle automobili. Senza dubbio è il ritrovare i ritmi che si sono persi, ma non per un ritorno al passato, non ci interessa. Non per un ritorno al passato perché il progresso comunque avanza, comunque ritrovare certi ritmi è fondamentale, non possiamo pensare esclusivamente adesso anche in Italia con le nostre programma, penso anche in Francia. La crescita, la crescita, la crescita, la crescita per andare dove? Ritroviamo magari dei ritmi diversi e non avremo bisogno di inseguire la crescita a tutti i costi. Io penso e credo che questo sia fondamentali, questo ci fa apprezzare intanto di più quelle che sono le cose buone e ci fa ragionare anche sul come affrontare le cose che buone non sono.